Aspettiamo che si connetta qualcuno. Buonasera a tutti, così ci facciamo una bella chiacchierata su un concetto fondamentale di marketing. Un concetto che potrebbe sembrare un po' complesso, ma in realtà non è nulla di che. Spendiamo la musica. Siamo già tre persone. Eccomi qua, mi metto i miei preziosi Airpods, sono collegati alla... Ok, vediamo un po'... Datemi solo un secondo. Eccoci qua. Ciao Renato Cerroni. Buonasera a tutti. Oggi parliamo di funnel e quindi spiegherò che cos'è un funnel di marketing in maniera molto semplice proprio per giardinieri. Non che i giardinieri non capiscono, non capiscano, ecco, perché è un concetto complesso al quale le persone non sono molto avvezze e quindi cercherò di spiegarlo nella maniera più semplice possibile per farvi capire come mai il marketing è l'anello mancante per il successo che meritate voi che lavorate nel mondo del giardinaggio. Per chi non mi conoscesse, io sono Alessandro Difonso e sono il primo agricoach in Italia e il mio mestiere è quello di insegnare il marketing ai genitori, ai giardinieri, perché nella mia vita ho fatto il giardiniere per dieci anni, il garden designer. Sono partito come giardiniere di basso rango, quindi nei giardini quelli più brutti, quelli con l'erbaccia alta, quelli senza un prato decente, quelli dove ti schizza la cacca dei cani addosso perché col decespugliatore lo sapete come succede, fino ad arrivare a fare giardini di altissimo livello in tutta Italia, ovunque, anche sui tetti, per lavori fino a 247 mila euro per unico committente. e nel frattempo, siccome ritenevo molto interessante la materia, ho approfondito la disciplina del marketing studiando con i migliori formatori italiani ed anche stranieri, addirittura ho preso aerei per volare all'estero. Sono stato più volte a Londra non solo per formazione di marketing ma anche per formazione nel mondo dei giardini, in particolare corsi di garden design direttamente a Chelsea, dove c'è anche il Chelsea Flower Show, che è una manifestazione che se non l'avete mai vista, voi giardinieri, vi consiglio di vedere, c'è ogni anno a maggio, non credo che quest'anno purtroppo ci sarà, e oltre ai corsi di garden design direttamente a Londra, in quella che possiamo considerare assolutamente la patria dei giardini, ho fatto anche corsi di light design, cioè di illuminazione giardini, perché in Italia, come tante nozioni di marketing, purtroppo queste cose non sono molto diffuse, non sono molto ricercate, molto male, e quindi bisogna andare spesso all'estero e conoscere un minimo di inglese per poter apprendere certe informazioni che possono essere realmente preziose per il vostro lavoro. Perché è questo un concetto che cerco di ripetere ogni volta, perché vi deve entrare nella testa in Italia il settore del giardinaggio è realmente all'età della pietra, che i giardinieri mediamente sono indietro come la coda del porco, sono un agricocci, quindi utilizzo termini agricoli e quindi parlo di coda del porco per dire quanto è indietro il settore del giardinaggio in Italia. E questo significa che se da un lato il settore è indietro, dall'altro lato c'è una grandissima opportunità per chi è più furbo ed inizia ad approfondire non solo le nozioni tecniche, che quelle che io do per sottenteso che voi sappiate, spero che voi sappiate anche se dall'altro lato sono assolutamente cosciente che purtroppo questa cosa non è molto vera. Ciao Gabriele Caselli, come stai? Perché c'è una ignoranza di base incredibile che riguarda le nozioni tecniche nel mondo del giardinaggio, mentre dall'altro lato, oltre alle conoscenze tecniche che sono la base ovviamente del vostro lavoro e che si spera tutti abbiate, quello che sto proponendo da circa un mese a questa parte, da quando ho lanciato il mio progetto alla ribalta nazionale, è quella di abbinare delle conoscenze di marketing specifiche per i giardinieri, perché come vi ho detto prima ho fatto per 10 anni i giardinieri e quindi conosco esattamente e perfettamente tutte le problematiche e tutte le potenzialità del vostro settore e a queste vado ad applicare le nozioni di marketing che ho utilizzato con successo non solo nel giardinaggio ma anche in altri settori, in particolare ultimamente sto conducendo una raccolta di crowdfunding che mi ha visto raccogliere, quindi sarebbe una raccolta di fondi online per lanciare una start-up, 300.000 euro in poco più di due mesi con un record nazionale per quanto riguarda la ristorazione di ben 126.000 euro 250 in meno di 24 ore o meglio 22 ore per la precisione, un 5.000 euro l'ora, sì più o meno 5-6.000 euro l'ora, pensate un po', quindi questo per marketing signori vi permette di fare delle cose che voi ciao Francesca, ma il fatti musacchio, vi permette di fare delle cose che voi mai avreste potuto immaginare nella vostra vita e quindi andandoli a praticare praticamente in un settore dove nessuno fa pubblicità, dove a malapena qualche giardiniere conosce le nozioni tecniche del lavoro e quindi insomma il successo assolutamente per chi è in grado di mettere in campo queste conoscenze, questa disciplina è assolutamente... eccomi qui, ho premuto un tasto a casa o a caso e quindi mi si è switchato lo schermo sull'email e sono più apparso. Allora oggi andremo a parlare del funnel di marketing e vi spiego che cos'è. Allora il funnel, la parola funnel è una parola inglese, si scrive con la U ma si pronuncia con la A, si scrive con la U ma si pronuncia con la A, traducendolo dall'inglese all'italiano è traducibile con la parola imbuto. Questo che cosa sta a significare? Anche se effettivamente non è proprio un imbuto c'è chi lo definisce più che un setaccio, più che un imbuto scusatemi, un setaccio perché poi vi vado a spiegare qual è la motivazione di questa differente definizione di funnel, è comunque che sia un imbuto o che sia un setaccio, chiamiamolo come ci pare, è un processo educativo che ci porta a trasformare i potenziali clienti in clienti. Il marketing, quindi torno un pochino dietro per introdurvi meglio la questione e per farvi capire. Il marketing è costituito fondamentalmente da quattro fasi. La prima fase è quella di attrazione e profilazione, cioè io vado sul mercato, per questo si dice faccio marketing, quindi mi propongo a un mercato di riferimento che tecnicamente dovrei aver già studiato e quindi dovrei già conoscere se esiste e come si comporta. Mi espongo sul mercato, alzo la mano e dico eccomi qua, sono l'agricoach e faccio consulenza videocorsi e insegno il marketing ai giardinieri. Oppure sono Antonio, faccio il giardiniere. Chi fosse interessato ai miei servizi? Eccomi qua. Quindi la prima fase del marketing è quella di porsi all'attenzione dei potenziali clienti attraverso però una profilazione. Allora, mediamente questo è un errore che è fatto un po' da tutti quanti perché si pensa che più il vostro prodotto servizio sia per tutti e più ci sia la possibilità di lavorare. Nulla di più sbagliato. Non possiamo, diciamo, il nostro prodotto servizio, ciao Vita Toyo Lizio, il nostro servizio deve essere focalizzato ad un target che noi andiamo a definire prima perché in base al target, cioè all'obiettivo, quindi alla categoria di persone di riferimento, cioè coloro che possono essere effettivamente interessate al nostro prodotto servizio, quindi noi andremo a comportarci in maniera più o meno, insomma, in maniera differente. Ecco, molto semplicemente, se il nostro servizio è per bambini, ok, nella nostra comunicazione o nel nostro marketing, vi ricordo che non sono la stessa cosa, la comunicazione è praticamente come viene comunicata ai nostri potenziali clienti la nostra strategia di marketing, ciao Lino Vallona, quindi se il nostro prodotto servizio si rivolge a dei bambini, ciao più amichi, se il nostro prodotto servizio si rivolge a dei bambini, ovviamente non parleremo ai bambini come si parla agli adulti, ok, non parleremo ai bambini come si parla a un diciottenne e non parleremo ad esempio a un diciottenne come si parla ad un adulto, ok, ogni target necessita di quello che viene definito, non so se vi è mai capito di chiedere, ciao Anna Maria Pulina, se vi è mai capito di chiedere dei preventivi e delle agenzie di comunicazione usano una serie infinita di termini in inglese che non si capisce niente e in questo caso è quello che viene definito tone of voice, cioè il tono di voce col quale parliamo ovviamente deve essere adeguato al nostro target di riferimento, cioè deve essere adeguato alle persone a cui noi vogliamo andare a proporre il nostro prodotto servizio, per questo motivo il tono deve essere ben calibrato perché tornando a monte, come ho detto prima e lo ribadisco ancora, il nostro prodotto servizio non può essere per tutti, ok, più è per tutti e meno è per nessuno o più è per nessuno, non lo so, comunque, cioè se noi vogliamo prendere tutti, ok, noi andiamo a fare un lavoro che non va bene perché il nostro prodotto servizio non deve essere per tutti, deve essere focalizzato direttamente all'obiettivo che vogliamo coinvolgere, altrimenti rischieremo di sprecare la nostra comunicazione e che la comunicazione poi deve essere veicolata attraverso la pubblicità e la pubblicità ha un costo, quindi rischieremo di veicolare la nostra comunicazione che rappresenta la nostra strategia di marketing a persone che magari potrebbero essere vagamente interessate e che poi alla fine non potrebbero essere trasformate in clienti, quindi ritornando a bomba, la prima fase del marketing è quella di attrazione e profilazione, cioè io dico faccio il giardiniere ma sono specializzato in prati, ok, quindi posso interessare tutti quelli che hanno un giardino ma magari devono avere un prato, magari c'è chi ha il giardino ma solo siepi e pavimento e io invece faccio solo il prato, dicendo solo vagamente sono un giardiniere, rischierei di attrarre anche quelle persone che poi alla fine non possono comprare il mio prodotto servizio. E questa è la prima fase, quindi quando io mi propongo ciao Alberto, quando mi propongo sul mercato, quando dico cosa faccio, una massa di persone risponde e si interessa a quello che io propongo, ovviamente se queste persone sono in target. E questo è un po' il concetto del sistema della lead generation, le classiche pubblicità sponsorizzate nella quale tu troverai un post che ti racconta che cosa fa l'azienda, che cosa propone il tipo che spesso appare in foto o in video, proprio come ho fatto io, quindi dove ho raccontato, ho raccontato in maniera particolare, ho raccontato in maniera un po' arrogante, ok? E' un po' presuntuosa, è un po' tecnica e torno al discorso di prima e l'ho fatto apposta per escludere tutte quelle persone che non arrivando a capire che ero ironico magari non sono, diciamo, predisposte mentalmente, predisposte culturalmente a capire il valore della mia offerta. Quindi se io fossi stato, se io avessi avuto un tono un po' più pacato, un po' più piatto, un po' per tutti, avrei attirato tantissima gente che poi alla fine non avrebbe comprato. E io per attirare quella gente, cioè ogni volta che una persona mi fa, mi mette un click, ogni volta che la persona preme sullo scopri di più, io spendo le soldi. Quindi è inutile che io vada a trarre gente che poi non è in linea con il mio prodotto o servizio o è solo vagamente interessata perché vado letteralmente a buttare soldi. Quindi tornando al discorso della lead generation, che è il sistema per attrarre e profilare clienti, che succede? Che lanciamo un post sponsorizzato, i nostri potenziali clienti vedono che cosa facciamo, si interessano, leggono, arrivano alla fine del post e poi vanno sullo scopri di più oppure iscriviti, che è la classica iscrizione alla newsletter dove il potenziale cliente lascia i dati e quindi finisce, diciamo, dentro un calderone, dentro un secchio, diciamo dentro uno scatolone, ok? Qui dentro lo scatolone il cliente non ha fatto niente, diciamo ha fatto un primo mini passo, cioè ci ha lasciato i suoi dati e siccome al giorno d'oggi sempre di più, sempre più persone sono a richiedere le dati, le persone sono diventate anche un po' restie nel farlo, mentre un tempo tranquillamente si mettevano mail, numero di telefono ovunque, dopo insomma dopo un po' di tempo che ci stanno bombardando dalla mattina quando ci alziamo fino alla sera quando torniamo a casa, a parte che ora non si torna a casa perché ne si esce e ne si ritorna perché sta sempre a casa, le persone sono anche un po' più restie, quindi già il fatto che ci diano i loro dati personali potrebbe essere un piccolo passo in avanti, però dal momento in cui queste persone che sono definite in gergo tecnico prospect o potenziali clienti ci danno i loro dati, quindi sono in uno scatolone, ok? Immaginate uno scatolone a sinistra e dobbiamo poi far arrivare, traghettare nello scatolone a destra dove ci saranno i nostri clienti, ok? Se nello scatolone di sinistra dove sono i potenziali clienti è tutto pieno di persone, no? Che magari non ha ancora capito bene cosa facciamo, non ha ancora visto quali sono i nostri prezzi, non ha ancora capito qual è il nostro approccio al lavoro, quindi è diciamo sommariamente interessata e quindi sono tanti, alla fine della fiera che dopo questo cammino, punto, che deve fare il potenziale cliente per trasformarsi in cliente, alla fine nello scatolone di destra, quello dei clienti ovviamente andremo ad avere molte meno persone, sarebbe bellissimo se tutti i prospect diventassero clienti, poi quello dipende da quanto siamo bravi noi, ma il fatto di trasformare un prospect in cliente dipende da come viene organizzato e strutturato il nostro funnel, che è il tema di questa diretta, ok? Quindi il funnel, che significa imbuto in inglese, che qualcun altro, qualche altro esperto di marketing definisce un setaccio, non è altro che un sistema, un processo educativo che ci permette di prendere il nostro potenziale cliente, accompagnarlo durante diverse fasi fino a trasformarlo in cliente pagante, che è quello che, diciamo, a cui dovremmo ambire. E questo iter, ok, che viene anche chiamata fase educativa o fase di nurturing, in questa fase noi attraverso vari sistemi, perché poi esistono anche dei funnel più specifici, quindi funnel di email, funnel di telefonate, funnel di video, che è comunque generalmente un processo che può essere fatto poi attraverso vari sistemi che io personalmente effettuo tramite diversi mezzi. Utilizzo la newsletter, utilizzo i video in diretta come quello che state vedendo voi in questo momento, poi lo stesso video in diretta lo metto anche su LinkedIn, poi lo metto su YouTube, tutto viene fatto in maniera, diciamo, specifica e calibrata, cose che troverete completamente, interamente, e spiegate dalla A alla Z nel videocorso che l'agricoccio rilascerà al popolo giardiniere a fine maggio, primi di giugno, quindi ci sarà scritto proprio, ci sarà scritto, potrete vedere, perché sarà su una piattaforma di e-learning, quindi sarà a disposizione 24 ore su 24, in modo che possiate vederlo, rivederlo quante volte vi è necessario per arrivare alla vostra evoluzione. E quindi, tornando al discorso del funnel, che è questo processo educativo, quindi è un processo che ha la finalità di educare il cliente al vostro prodotto servizio, quindi spiegandoli che cosa fate, spiegandoli quali sono i vostri valori, spiegandoli come lavorate, spiegandoli perché voi siete differenti e meritevoli rispetto agli altri, innanzitutto di essere scelti per fare il lavoro e anche di essere pagati di più rispetto alla concorrenza. Però, sempre contrariamente a quello che credono le persone, il funnel, quindi questo processo, deve essere da un lato inclusivo, cioè deve trattenere le persone e cercare di portarne più possibile verso, dai prospect, quindi dai potenziali clienti ai clienti. Però, dall'altro lato, deve essere anche esclusivo, ok? Quindi, immagina, facciamo un altro esempio, è come se ci fosse, diciamo, uno stabile, ok? Che ha due, che, diciamo, ha un'entrata su una strada e un'uscita sull'altra strada, ok? Quindi, dall'entrata noi facciamo entrare. La conclusione è che stai a dire scattolone a destra e scattolone, ci stai rompendo le palle. Ecco, esempio, questo è il classico esempio per Salvatore Lucenti, che, ora non so se lui sia un giardiniere, è una tipica persona che non è in target. Innanzitutto, Salvatore Lucenti, sei tu che rompi le palle all'agricoccio, perché questa è la mia diretta, è la mia pagina Facebook, è casa mia, quindi se ti sei introdotto in maniera piuttosto volgare, scortese, e tra l'altro non sai scrivere nemmeno scatolone, perché si scrive con una T, no con due T, quindi ti prego di uscire subito senza passare dal via, altrimenti ti bagniamo, ok? Quindi, ma io anzi, Salvatore Lucenti lo ringrazio perché è proprio capitato nel momento giusto per far capire che significa che un funnel deve essere esclusivo, cioè il processo informativo, il processo educativo deve andare a escludere tutti gli imbecilli, come questo Salvatore Lucenti, che non potrebbero mai capire il valore del nostro prodotto servizio, che magari potrebbero seguire e raggiungere la fine del funnel, suca suca, ok, guarda, e ora non riesco a bannarlo, ma purtroppo mi è la ridere, no? Perché questa, diciamo, è una delle problematiche quando uno si espone mediaticamente, incombe in idioti che evidentemente non hanno niente di meglio da fare nella loro vita e si mettono a commentare con queste cavolate sulle dirette, dove si parla di cose interessanti. Quindi, per non incappare in queste problematiche, il vostro modo di comunicare deve essere assolutamente esclusivo, cioè deve andare ad escludere le persone che non sono in linea con il vostro prodotto servizio, perché magari allo stesso modo di cui vi parlavo prima, voi potreste correre il rischio di portarvele fino alla fine, quindi spendendo soldi per fargli arrivare la vostra comunicazione e poi queste persone o non comprano, oppure si rivelano persone che poi vi possono dare problematiche a livello di business, a livello poi di follow up, quindi a livello di quello che segue nel post vendita. Quindi, quando mi ha interrotto il tipo prima, si diceva che parlavo dell'edificio, visto che lo scattolone non è stato forse compreso, ma forse non è stato compreso da lui, perché forse dovrebbe prima comprendere l'italiano. lo scattolone, come cazzo si fa? Io posso capire che uno può avere dei problemi, può avere dei dubbi, se voglio scrivere c'entra, si scrive c'entra tutto attaccato, c'entra, però scattolone è Dio santo, Dio santo. Non insisto sul tema rovente dello scattolone. Quindi, visto che lo scattolone non ci piace, prendiamo l'edificio che ha l'entrata su una strada e all'uscita sull'altra, ok? Quindi io mi metto fuori, prendo il mio megafono e strillo, faccio giardini, chi vuole giardini venga qui, ok? Quindi si crea un assemblamento di persone che probabilmente hanno dei giardini e gli dico, allora, chi vuole fare un giardino con me, chi è interessato a fare un giardino con me, entri e venga con me. E quindi immaginate che dopo l'ingresso c'è un corridoio molto lungo con delle porte di uscita, con delle uscite d'emergenza. Allora, innanzitutto, quando fate entrare le persone, immaginate di mettere dentro, quindi quando, ricordatevi, vi parlo dell'esclusività del funnel, quindi che deve escludere chi non è in linea, mettiamo che voi vogliate avere solo clienti a cui piace la musica rock, ok? Quindi voi fate entrare le persone e le persone che entrano, entrano in un ambiente dove ci sono delle casse di musica, come quelle che mettono i miei vicini dietro che hanno il reggaeton tutto il giorno, che pompano nell'ambiente musica rock. Quindi subito, a chi non piace la musica rock, cercherà la prima uscita di sicurezza per abbandonare l'ambiente e quindi non vi seguirà. Mentre tutti gli altri inizieranno a camminare con voi, quindi voi in questa passeggiata, quindi immaginate questo corridoio che può essere più o meno lungo, voi in questo corridoio, oltre a fargli ascoltare la musica rock, iniziate a spiegargli come vedete voi il lavoro, gli spiegate come approcciate certe situazioni, gli spiegate perché il vostro prodotto o servizio è il migliore della zona, il migliore della regione, il migliore della nazione e piano piano andate a educarli al vostro prodotto o servizio fino a portarli alla fine. E ovviamente, ovviamente, da tante persone che entrano all'inizio, strada facendo attraverso le porte d'uscita, tanti se ne vanno. Quindi di tante persone che voi prendete all'inizio con la lead generation, quindi quando iniziate la fase di attrazione e profilazione, alla fine solo un tot, ok? Un tot rimane dentro e diventa effettivamente il vostro cliente, ok? Rompere il ghiaccio, quindi far sì che le persone diventino clienti, diciamo, è la fase più difficile in assoluto, perché una volta che la persona, il tuo potenziale cliente è diventato cliente, quindi una volta che tu hai guadagnato la sua fiducia, avete già intrapreso un rapporto lavorativo con soddisfazione da entrambi i lati, perché la soddisfazione ci deve essere, il rapporto deve essere paritario, quindi deve essere soddisfatto il cliente e devo essere soddisfatto io del cliente. Ad esempio, a livello di consulenza, quello che faccio è proporre una candidatura per la consulenza, in modo da andare a vedere, a valutare se chi chiede di fare consulenza è in grado poi di mettere in atto quello che gli consulisco, ora non è la parola giusta, però tanto meglio di scattolone sicuramente ci è, e mi piace ogni tanto prendere qualche licenza poetica, perché da subito sono in grado di capire se quello che poi viene spiegato, quello che viene poi consigliato di fare, può essere messo in atto più o meno bene oppure male, perché se la persona che viene a fare consulenza poi non è in grado di mettere in atto bene la mia consulenza, poi c'è uno spreco di soldi da parte del cliente e un cliente insoddisfatto che poi probabilmente parlerà male di me. Quindi in questo caso, come dicevo prima, il rapporto assolutamente deve essere paritario, cioè deve essere soddisfatto il cliente di lavorare con me e io devo essere assolutamente soddisfatto di lavorare con lui. Quindi una volta che il cliente è diventato tale, si è stato rotto il primo ghiaccio e poi diventa sempre più facile nella quarta fase del marketing che quella della vendita ripetuta, cioè una volta che il tuo cliente è una persona, poi tu hai molte più possibilità e quello che devi fare è andargli a vendere altri prodotti servizi della tua gamma di prodotti servizi che metti a disposizione. Quindi ricapitolando, prima di chiudere e di andarci a preparare per la cena, il marketing fondamentalmente è diviso in quattro fasi, poi queste quattro fasi io le ho tradotte anche in termini agricoli, infatti ho un metodo mio personale che si chiama Sky, quindi non Sky come la televisione satellitare, ma Sky come S-C-A-I e sarebbe la semina, la concimazione, l'allegagione e l'immagazzinamento, che rappresenta praticamente in termini agricoli, visto che il mio marketing e la mia comunicazione, tornando al discorso di prima, il mio tone of voice deve essere tagliato per questa categoria di lavoratori, quindi per la categoria, per il segmento dei giorninieri. Le quattro fasi del marketing sono la prima fase attrazione profilazione, dico che faccio questo lavoro e mi rivolgo a un target specifico, non a tutti, mi raccomando. La seconda fase è la fase educativa che faccio attraverso il funnel, quindi questo processo informativo che posso fare attraverso vari sistemi, tramite newsletter, tramite video, tramite canale telegram, ecco chi non è ancora iscritto e chi ha telegram, li consiglio di iscriversi al mio canale Giardini Re Vincente, dove praticamente ogni mattina alle quattro, ogni mattina a quattro e mezzo, quindi levate la suoneria se entrate in quel canale perché io mi alzo prestissimo, alle quattro, quattro e mezza di mattina, infatti poi è arrivata una certa ora, sbiello e mi incazzo con gli idioti come quello di prima, insomma tanto siamo tra adulti e possiamo dire delle cattive parole, tra l'altro se le merita tutte, il tipo dello scattolone, ogni mattina do una pillolina di marketing che vi fa scattare poi la riflessione durante la vostra attività quotidiana lavorativa, soprattutto se siete in giardino puoi attossare le siepi, potete ascoltarlo in audio, c'è solo la musica, oltre a questo ho un podcast, un canale youtube e un podcast, quindi avete in ogni modo, quindi ovunque voi siate, in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto voi vi troviate, avete, avrete o avete possibilità di informarvi, educarvi al mio prodotto o servizio, quindi il mio funnel è multi, diciamo arriva da tutti i lati, ok? Quindi se stai guardando questo video, se sei nella mia newsletter, tu sei nel mio funnel, quindi sei sottoposto in questo momento ad una fase educativa in cui io ti spiego che cosa posso fare per te e in che modo posso aiutarti. Like. Quindi fase di attrazione e profilazione, seconda fase, fase educativa, terza fase, fase della conversione, quindi trasformazione in cliente, quarta fase e in mezzo c'è un'altra, diciamo c'è un'altra fase educativa, un'altra fase rieducativa e la vendita ripetuta, ok? Quindi anche la possiamo anche chiamare una sorta di fidelizzazione, cioè ti tieni il cliente e gli vendi le altre cose. Bene signori, quindi il funnel non è tipo un imbuto, un imbuto, un setaccio, da tante persone sopra, pochi diventano clienti, mi raccomando, non parlate in maniera inclusiva, cioè che tutti vi stanno ad ascoltare e poi alla fine non comprano niente, dovete essere esclusivi e allontanare gli imbecilli come quelli dello scatolone. Ho sbagliato, scatolone. Quindi anche per oggi è tutto, domani mattina esce la nuova puntata del mio show Giardiniere Vincente che viene lanciata ogni venerdì mattina intorno alle 6 sul mio canale YouTube. Chi vuole essere avvisato si può iscrivere alla mia newsletter e trovate su questo post l'indirizzo del sito al quale recarvi per iscrivervi che ve lo dico anche io, è www.agricoach.it, è il mio show che è il primo show di marketing per giardinieri, di marketing tagliato, anzi di marketing cucito su misura per giardinieri, domani vedrà una puntata interessantissima e magari potrebbe interessare anche ad Alberto perché più o meno in questo caso non sono delle nozioni specifiche ma sono delle nozioni universali. In questa puntata parlerò delle tre leve di marketing principali, le tre leve che riescono a muovere il mondo, le tre leve che riescono in qualsiasi modo a azionare quelle rotelline nel cervello del vostro cliente che gli fanno scattare il click e dico no, lui mi piace e compro lui. Quindi da quando non la perdete, il canale YouTube è Agricoach Marketing per giardinieri, quindi ovviamente è molto semplice, lo potete trovare, ma il mio consiglio è quello di iscrivervi alla newsletter. Buonasera a tutti e come sempre io brindo alla vostra evoluzione. Ciao, ciao, ciao.